Ciao, sono Tommaso di Geopolitica Liscorrect, ringrazio Domenico per questo spazio nel suo canale e oggi vi parlo dell'industria del fast fashion e di come sia la seconda industria in termini di inquinamento prodotto al mondo, seconda solo al petrolio. Come saprete io mi occupo principalmente di geopolitica, quindi può fare un po' strano vedermi parlare di questo argomento, ma me ne sono occupato per lavoro. Un giorno ho dovuto preparare questa presentazione per spiegare qual è l'impatto ambientale proprio di questa industria che viene chiamata fast fashion o comunque la moda veloce, possiamo dire in italiano e quindi ho deciso di presentarvelo sia perché Dandy si è occupato in più video della manifestazione Fridays for Future che è avvenuta nel 15 marzo, sia perché è comunque un argomento importante che secondo me ha rilevanza anche in termini internazionali di politica internazionale perché poi le misure che vanno prese andrebbero prese anche dalla politica e dalla politica internazionale. Allora, per farvi un'idea questa presentazione chiaramente è anche a scopo aziendale quindi ci saranno delle slide dedicate al prodotto che noi abbiamo creato, cercherò di saltarle però in caso vediate cose strane sapete di cosa si tratta. Partiamo con dei numeri. Come ho detto prima l'industria del fast fashion è la seconda in termini di inquinamento prodotto a livello globale dopo il petrolio, riesce a superare in termini generali anche allevamento e agricoltura che vi assicuro non è un compito semplice. Penso che questa presentazione sia interessante anche per chi di voi non si è mai interessato al tema chi non abbia idea di qual è l'impatto dell'industria della moda sull'ambiente oggi perché è stata creata da una persona come me che onestamente fino a pochi mesi fa non era mai entrata a contatto con questo tipo di idee, con questo tipo di mondo non aveva idea di tutti i danni che sta producendo l'industria della moda a livello globale e quindi spero che sia più facile per voi anche seguire. Questi sono alcuni numeri, dopo ne vedremo di più importanti secondo me comunque una cosa che posso già farvi notare è questa cioè i vestiti rilasciano mezzo milione di tonnellate di microfibre nell'oceano ogni anno che equivale a 50 miliardi di bottiglie di plastica quindi già qui cominciate a capire qual è l'impatto a livello globale del problema moda queste microfibre sono principalmente rilasciate, non principalmente ma sono rilasciate in diversi momenti della catena in realtà in termini di vestiario e per esempio anche quando voi lavate alcuni indumenti di lavatrice la maggior parte degli indumenti, questi rilasciano queste microfibre che poi tramite i condotti vanno a finire negli oceani. Ok, eccoci qua con qualche numero in più come vedete ho diviso le tre aree principali in termini di inquinamento cioè la produzione, il trasporto e il rifiuto per quanto riguarda la produzione vediamo subito che l'11% dei pesticidi e il 24% degli insetticidi nel mondo viene usato semplicemente per l'industria della moda quando e dove viene usato? viene usato sulle coltivazioni quindi noi sappiamo per esempio il cotone è uno degli elementi più utilizzati per la produzione di vestiti e chiaramente le persone che hanno coltivazioni di cotone devono proteggerlo e per proteggerlo utilizzano insetticidi e pesticidi da qui per esempio c'è già una prima differenza tra i capi che vengono fatti in cotone normale e quello che invece viene definito cotone organico o almeno in inglese viene definito organic cotton forse in italiano è più cotone biologico comunque c'è un tipo di cotone che non prevede l'utilizzo di questi insetticidi e pesticidi però anche lì quel tipo di cotone è più soggetto a possibili malattie o insetti che quindi potrebbero distruggere intere coltivazioni e creare ulteriori danni ambientali per quanto riguarda l'acqua mezzo bilione di galloni d'acqua è contaminato semplicemente dal dyeing che sarebbe praticamente la colorazione dei vestiti e sono numeri allucinanti se pensate che ancora oggi ci sono tantissime persone che soffrono la mancanza d'acqua pulita e il terzo e non ultimo argomento riguardante l'inquinamento dalla produzione è lo sfruttamento di esseri umani oggi ci sono 170 milioni di bambini che vengono impiegati in lavori che vengono definiti appunto minorili e una grandissima parte di questi è impiegata nell'industria della moda quindi sono bambini in paesi come Bangladesh che vengono utilizzati sia per quanto riguarda la raccolta del cotone appunto di questi elementi che poi vengono utilizzati per produrre vestiti sia come sappiamo tutti nello stereotipo del bambino cinese per la produzione stessa dei capi di abbigliamento per quanto riguarda il trasporto è un argomento, qui ho calcolato principalmente i dati relativi all'e-commerce perché poi è l'area di interesse per la nostra soluzione però vi posso dire che più di 3 milioni di tonnellate sono consumate semplicemente tramite la spedizione di vestiti da siti di e-commerce c'è un incredibile spreco del packaging quindi ci sono tantissime aziende che utilizzano un sacco di carta un sacco di plastica per spedire prodotti che sono poi elementi che vengono buttati a volte neanche riciclati e soprattutto l'industria del e-commerce ha un tasso di ritorni che è superiore al 20-30% e va fino al 60-70-80% quindi vuol dire che tu ordini un capo e poi lo rimandi indietro perché adesso ci stanno aziende come Amazon che fanno sempre il ritorno gratuito e quindi le persone ne stanno abusando specialmente in termini di fashion quello che accade se non lo sapete molto spesso le persone ordinano una S e una M per vedere quale gli va meglio e poi la mandano indietro questo produce un sacco di CO2 appunto prodotto dalle persone che poi devono andare a riconsegnare o a riprendere i pacchi per quanto riguarda lo spreco l'85% dei vestiti va a finire nelle discariche e anche quando viene riciclato il riciclaggio è discutibile nel senso che molte volte viene mandato in massa a delle industrie che lo riutilizzano in maniera non sostenibile in maniera inquinante o viene mandato in paesi come il Kenya per tornare un po' sul aspetto geopolitico in paesi africani in generale che puntavano tantissimo sull'industria manifatturiera sulla creazione di vestiti in termini di dare lavoro alle persone ma siccome hanno cominciato a ricevere così tanti vestiti gratuitamente da paesi europei la loro industria è completamente crollata quindi un sacco di persone si sono ritrovate senza un'attività lavorativa in questi paesi e come potete immaginare è un grande scossone vediamo di andare avanti perché siamo arrivati a questo punto perché è un mercato quello della moda che al momento è completamente definito in buonissima parte definito dalla competizione sul prezzo adesso in Italia non ci sono tantissimi Primark ma vi assicuro che qui all'estero ce ne sono tanti e ragazzi i prezzi sono assurdi se voi andate da Primark i prezzi sono ancora più bassi di H&M o Zara ci sono magliette vendute a 2, 3, 4 euro ci sono felpe vendute a 6 euro, 7 euro jeans non ne parliamo e quindi che cosa succede? chiaramente queste aziende competono esclusivamente sul prezzo cercano di venderti il più possibile creano 52 collezioni ogni anno quindi una ogni settimana anziché farne una per ogni stagione come era in passato perché cercano di venderti in continuazione sono vestiti di bassa qualità quindi tu li devi cambiare spesso e si continua a produrre a produrre senza alcun tipo di freno e finché c'è possibilità quindi questo è uno dei motivi principali per cui il mercato in questo momento sta consumando così tanto sta avendo un impatto ambientale così grande il secondo più grande in termini di industria al mondo e insomma qui poi si parla un po' di quello che facciamo noi il motivo per cui sono pochi i brand sostenibili che stanno emergendo è perché non sono in grado di comunicare quali sono i loro valori ce ne sono alcuni che stanno facendo un lavoro ottimo come per esempio Patagonia che alcuni di voi magari conosceranno che sta diventando enorme proprio perché parla e comunica questa sua voglia di avere un impatto positivo a livello globale molti altri non riescono e chiaramente quando tu sei un brand sostenibile hai dei prezzi molto più alti quindi devi competere sul prezzo ma non puoi perché le altre aziende se ne fregano dell'impatto ambientale e questo porta a un risparmio in termini di soldi in questo caso noi spieghiamo un po' come pensiamo che l'industria sostenibile possa raggiungere il mercato di massa ma diciamo che sono argomenti che vi interessano poco la nostra idea è che offrendo un'esperienza basata sul servizio anziché sul prezzo sia possibile vendere oggetti di maggiore qualità sia possibile vendere oggetti che vengano utilizzati più a lungo e che l'utente sia più consapevole di quello che compra questa la salto questa anche la posso saltare e quindi appunto noi pensiamo che bisogna bisogna tornare a questo guida dell'utente che è un po' è andata scomparendo con l'arrivo di internet con l'arrivo di internet e con l'arrivo di con l'arrivo dell'e-commerce e con l'arrivo di giocatori sul terreno diciamo come Primark e CNM e Zara dove appunto se voi entrate da Primark non c'è nessun commesso che vi viene a dare una mano perché semplicemente voi andate là e decidete in base al prezzo questo è un meccanismo che esiste nel 90% dei casi anche nell'e-commerce perché non siamo stati in grado di trasferire l'approccio che invece aveva funzionato offline di accogliere l'utente guidarlo dargli dei consigli fargli vedere le opzioni spiegargli giustificare il prezzo dell'oggetto quindi questo è quello che proviamo a fare noi online questa è un'altra slide riguardante l'impatto totale dell'industria del fashion vengono prodotti 1.2 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno dall'industria della moda e vengono utilizzati 80 bilioni di litri di acqua quindi questo per farvi capire la quantità e l'impatto che questa industria può avere questa è una stima che vi interessa poco ma è quanto potremmo salvare se il 20% delle vendite in termini fashion fossero fatte da brand ecosostenibili ci siamo basati su stime fatte da brand come Levi su Patagonia che appunto adesso stanno cercando di spingere questa agenda del fashion ecosostenibile ma insomma per concludere qual è cosa potete fare voi per ridurre questo problema sicuramente cominciare ad essere più consapevoli nei vostri acquisti e questo vuol dire due cose vuol dire cominciare a acquistare oggetti che non siano prodotti in maniera appunto che crei ha un eccessivo impatto ambientale quindi non comprare da aziende che fanno del prezzo l'unica proposizione per i clienti e per l'utente comprare da aziende che si occupano e si interessano di avere un impatto positivo a livello globale che utilizzano cotone organico o ancora meglio altre fibre che non sono inquinanti ce ne sono molte adesso non ve le sto qui a nominare perché comunque i brand che lo fanno ve lo dicono ve lo dicono quando utilizzano qualcosa che non è inquinante e soprattutto non cadere nella trappola che vi induce ad acquistare sempre di più cose nuove cercare di riutilizzare i vestiti cercare di quando non li utilizzate più di darli a qualcuno ancora meglio che riciclarli nel cartone giallo quella sicuramente è un'altra un'altra opzione valida che non vi scoraggio a prendere e niente spero che questo video vi sia stato utile per capire che cosa vogliono dire le persone quando vanno in giro con i cartelloni no fast fashion perché c'è così tanta attenzione su questo tema e se volete dare un'occhiata all'azienda l'azienda si chiama Trendiamo il prodotto di cui parliamo in questa presentazione è Freckles ma penso che interessi veramente a pochi di voi a pochi di voi che magari hanno un e-commerce oppure che hanno un'azienda di fashion oppure un'azienda generale per tutti gli altri vi invito semplicemente ad essere più consapevoli nei vostri acquisti in termini di moda io non lo sono stato per 21 anni cerco di esserlo un po' di più adesso lo so che costa leggermente di più ma se ci pensate meglio comprare un prodotto che costa 10% in più e magari vi dura un anno in più rispetto a che non comprare in massa vestiti che poi non utilizzerete mai cercate di comprare solo le cose di cui avete bisogno mi sono trasformato in un ecologista però a parte di scherzi spero di non essere stato anche noioso con questa presentazione spero vi sia interessato ringrazio ancora Delli noi ci vediamo alla prossima con un video di Geopolitica ciao ciao